quasi gaming stagione 5 l'arrivo e si è gara 4 gara 4 siamo tornati per il divertimento di condominio da siena io non tocco niente ma come ma come mai potrei toccare nulla di una squadra che dopo un anno intero forse ha trovato forse ha trovato una quadratura del cerchio tutto tale quale settimana scorsa con un'incognita in più chi ha visto il torneo dei sub speriamo che non si rompa nessuno speriamo manco le divise vada ho voluto cambiare proprio per cercare di mantenere perché qui la cosa va chiusa perché va bene tutto il 3 a 0 le cose come mai c'è questo campaccio grigio in questo modo ok sui cinese cinese io ho avuto la malaugurata idea non è stata un'idea in realtà non ho potuto fare altrimenti perché ho riportato la playstation a siena e quindi lei si è riconnessa al wifi e si è aggiornata ogni bene che è successo ai camp perché è grigio in questo modo c'è lo smog qual è proprio perché devi cambiare le cose siamo a luglio perché non hai presentato il gioco nuovo invece di fare le boiate che siamo a luglio e tra poco c'è da ricomprarlo c'è da rispendici altri 70 euro per vedere tutte queste boiate qui di tutti gli anni non lo so ragazzi noi bisogna tirà a chiudella stasera per tanti motivi perché non mi fido per niente degli Indiana Pacers perché comunque stasera si gioca in casa e poi soprattutto perché c'è la nuova serie di gaming che incombe per le sai capito orso e non sei altro per cui bisogna tirare beh basta basta su Rudy Gobert si vuole schippare e si vuole cominciare però c'è anche l'orso c'ha quei riflessi gialli che poi hanno la maglia di loro ma sembra che giochino in casa loro e la visuale non te la sei ricordata neanche a questo giro ma è difficile così eh ma perché c'è questo campo che pare quello dei Brooklyn Nets io boh Paul George per Rudy Gobert che addirittura prova a dare il pallone dentro l'attenzione attenzione perché Luca Magic si è ringagliofito capito l'ha avuta noia lui di tutto quello che gli ho detto di tutto l'anno nelle ultime due settimane hai capito Luca Magic 2 a 0 Adebayo dalla punta il jumper long two pari quota 2 piano Luca Doncic piano il gioco a 2 con Giannis ancora per Doncic fa quasi inflazione di passi poi la rimette nelle mani di Paul George rimbarzo di Adebayo anche le percentuali eh saranno importanti ragazzi questa è una partita che potrebbe segnare una stagione Jamal Murray per Middleton non c'è Doncic su di lui si torna da Murray c'è Paul George con le mani arte ancora Murray passa da quell'altra parte va via Adebayo e tiro di Murray Giannis al rimbarzo costruiamo costruiamo con calma dal palleggio Giannis contro Mobley il quarto di Campoli stivali delle sette leghe attacca Novischi 2 più 2 bravo Giannis che ti butti indietro come quello giusto e no come quell'altro ancora Murray che attacca contro Luca Doncic l'aiuto Adebayo Mobley ci sarebbe Giddi con tutta la permanente nessuno su ma chi lo marcava Murray Luca Doncic rimbarzo di Paul George 4 a 2 a gestire lui la mezza transizione sale il cattivo attenzione perché questa per il cattivo può essere una partita doppiamente importante anche a livello individuale Doncic c'è Paul George il ballo dei tip e tappe sulla mattonella contro Jamal Murray quarto di campo 4 secondi Luca Magic in fondo il tiro vicino al tabellone rimbarzo di Luca Doncic 4 a 2 3 minuti e 40 è una partita senza sosta dal punto di vista del ritmo Murray il doppio blocco la catapulta infernale la tripla Carmelo Luca Doncic c'è l'arciere ti infili con i telepass e con Doncic c'è Luca 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 5-4 6-4 col tiro libero a bersaglio di Jamal Murray sembra essere tutt'altra partita rispetto all'ultima ma in generale anche alle ultime due in cui noi si è trovato una ire molto interessante Paul George fino in fondo si ferma a movimento Vanterpool 2 di Paul George pari quota 6 siamo quasi a metà di primo qua sto sto storzo giallo in mezzo ai campi mi dà una noia questa sarà una qualche boiata di una qualche gold night particolare di qualche cosa il rimbarso e poi la mezza transizione con il cattivo che trova Luca Doncic che prova a redimersi step back cattivo Giannis Paul George gira bene il pallone ma non si è costruito niente ci deve pensare Luca Magic da 3 punti Luca Doncic gioca meglio eh da quando si è impostato l'attacco fico e roll gioca che è uno spettacolo Giddi con i bigodini ha proprio i capelli come la minonna quando andava dai parrucchiere e gli mettevano tutti capito tutto all'accrocchiamento Paul George Pelluca Doncic 9 a 8 il cattivo a portare il blocco attacca Doncic back to back 3 niente una sassata sui secondo ferro parriva Giorgio Boscagin ma così? catch and shoot Giddi da 3 punti? lo sai se avesse giocato in questo modo di per davvero appresti gli dovevi dare il palazzetto per pigliarglielo? ma è ma 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 ha malagato? ma se ma se inter se che sta succedendo? e ci hanno rubato una tripla di se era buiato tutto e io ho visto 3 punti di Luca bravo guarda la vita secondo Jim che sguardo da Andy comunque siamo avanti nel mezzo a tante cose che stanno succedendo Luca Doncic contro Giddi lo potrebbe attaccare dal palleggio va in fondo si appoggia sbaglia al rimbarzo di Giddi non te lo volevo dire Luca Doncic ma sei un fenomeno però con questi tirini in avvicinamento e giamperino non ti riesce non hai messo uno in tutta la stagione Murray su di lui ora c'è il granchio la musica è cambiata e però il problema è che ma cos'è ma io stavo guardando Rudy Gobet ma si è stoppato col ferro si è stoppato col ferro l'ha stoppato il granchio che sta succedendo? il cattivo da 3 punti scusate io devo andare a vedere perché io stavo guardando da quell'altra parte e stavo guardando il mancato il mancato aiuto difensivo di Rudy Gobet e non ho visto ma si è stoppato col ferro ma che cos'è la madre di tutti i Gasol la madre di tutti i fratelli Gasol la signora Marisa nooo ragazzi la Marisa è successa la Marisa 11-15 54 secondi alla fine di primo ma perché questo tira come Stephen Curry guarda che è difficile guarda che fortuna che potrebbe essere l'ultima perché io non lo so quante ne reggo ancora Luca Doncic che attacca e gioca a due per unico beh non so di che fa se ne si appoggia contro Middleton e poi dice karma karma che un soggio ha comunque in tutto questo tra le cose più incredibili che possano capitare siamo avanti di sei due possessi pieni di vantaggio Murray che attacca contro il granchio l'aiuto di Doncic una gomitata nello sterno è entrato scetto insieme a Perseo quindi ora siamo con i tre lunghi con Mirotic da tre mi sembra di intuire ha detto Messina Middleton il blocco di Nazerid è copiato contro Jannis e poi lo scarico ancora Ghidi da tre punti che è diventato il principale terminale offensivo la prima soluzione offensiva Jannis per il grancho dall'è cattivo dall'è cattivo sulla sirena il cattivo di Batman il cattivo stesso a pelle di leopardo proprio per terra il cattivo che giocatore tremendo e allucinante il cattivo di Batman con la tripla clutch sulla sirena quando siamo avanti 20 a 11 ma insomma tutto sommato non è andata male è entrato anche Aieie Brazorff in il frattempo quindi ora tutta la panchina più il cattivo attenzione o Pop Gadget eccetto allunga il rimbarzo ah no allunga la mano e recupera il rimbarzo il granchio pe Aieie che riceve corre bene il campo pare a Olli e Benji 22 a 11 doppio e la metà siamo sembrati nettamente superiori non si difende una mazza quando c'è in campo a Aieie però siamo fino ad ora sembrati nettamente superiori ci si meriterebbe io non voglio dire 22 a 13 ancora il granchio pe Aieie di nuovo dai granchio sale Perseo gli porta il blocco vediamo se giocano a 2 riceve Perseo e è diventato un grande tiratore mi rendo conto però è diventato un grande tiratore da 3 punti attenzione cattivo il consegnato per il cattivo arresto tiro sulla linea il cattivo is on fire eee ma siamo a 3 su 3 attenzione perché questa è una partita importante per il cattivo Ghidi fino in fondo cioè l'ispettore pronto arriva però Ghidi da quando ha visto Aieie ha visto rosso proprio omittoro questa ricezione al gomito come Nikola Jokic dell'ispettore gadget che poi palleggia non sa bene cosa fare qui la stessa situazione in cui lagga e balla e tip tap io lo riconosco nell'angolo ancora da 3 punti con fiducia e con spazio granchio l'errore rimbarzo Van Damme mancano 4 minuti attenzione a Ghidi qualcuno si accoppi in mezza transizione poi l'arzata la tocca all'ispettore che sta giocando portiere praticamente nell'ultima azione attenzione Aieie no no Aieie ma il jingle in quella che potrebbe essere l'ultima partita dell'anno te lo sei bruciato in questo modo 25-15 ancora Ghidi contro il povero Aieie attacca blocco di Nazerid tiene stavolta Aieie e poi gliela tocca è cattivissimo recupera il possesso e si lancia lui sulla me bada come incattivito bada come l'ha avuta noia bada come non te la dà neanche a stiantare Aieie il granchio ci sarebbe l'ispettore non riceve ultimi 12 secondi l'ali up sul backdoor capisce tutto la di più si giova male si pare i Bahrain ci manca che entri Ali Hassan due di Nazerid è tornato Yannis è tornato anche Luca Doncice quindi in pratica ora c'è al contrario di prima tutti i titolari tranne uno che è l'ispettore che ha avuto un impatto difensivo importante nella partita Paul George in uscita dai blocchi la tripla con molta distanza stavolta un po' forzata da Paul George si rimane sul più 8 siamo alla metà del secondo quarto attacca Jamal Murray contro il cattivo che tiene un paio di scivolamenti questo è un gran canestro di Murray occhio che non sono morti per niente e potrebbe anche prendere un po' di scoraggiamento capito il fatto di essere sotto 3 a 0 ma loro non lo sanno e quindi fanno come i calabrone fallo sull'ispettore che cos'è il lancio del vortex del peso è però 0 su 2 ispettore niente 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 anche in mi rovono fino all'ultimo giorno proprio tremendo ma forse l'ultimo giorno Murray penna a zeride che è accoppiato contro Luca Doncic e non se ne accorge si torna da Murray nell'angolo per Middleton il quarto di campo per attaccare però quello è Giannis che in teoria è un signor difensore l'errore il rimbalzo dello stesso Giannis che se non mi sbaglio è ancora a 0 punti in questa partita ultimi due minuti del primo tempo sale il granchio Giannis dal palleggio contro Murray che lo battezza tipo Stoneruk poi gli viene via con una falcata arresto il tiro errore rimbalzo di Cetto buttandosi indietro la mano è morbida più 8 27-19 ma Mobley spalla canestro contro Giannis io sinceramente lo lascerei fa si starà a vedere come Novitsky no come Gobè piano 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 sfruttiamo tutti 24 Doncic arresto il tiro di nuovo più 10 onestamente bisogna essere sinceri c'è stata fino ad ora una sola squadra in questa finale è stata molto più combattuta la semifinale ancora non è venita però questa cosa comunque ci porremo rimedio per il prossimo anno ci sono delle novità molto interessanti ma Carmelo potrebbe avere un'altra idea canestro e fallo esecchiappato tre punti in capo da Kelly Ubre e anche Junior 29-22 tornato Rudy Gobè ora siamo praticamente col quintetto titolare non è mai uscito il cattivo Paul George arresto e tiro nel traffico difficile ma così ma di prima intenzione che poi alla fine sono due possessi e io non ve lo volevo dire ma noi qui si sta già guardalo 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 come non sa tagliare guarda come si rigira due stavolta ha fatto bene Rudy Gobè ha fatto un movimento pareva massimo minto 25-33 Murray ancora da tre punti questo era molto importante per l'inerzia della partita rimbalzo di Giannis il cattivo prova ad andare in fondo poi si ferma trovato Paul George anche lui fallo di Carmelo no fischiato da Carmelo mancano 6 e 8 6.8 io costruirei per il cattivo e viene bene in queste circostanze invece si va con la virata di Paul George non vi riesce questo tirino ha una mano e non siete Mason Rocca 33-25 intervallo della partita ragazzi non c'è stata io direi che va chiusa qui va chiusa qui questa serie perché non c'è stata la cinese abbiamo l'occasione più unica e rara di facchiudere il campionato senza cinese non ci si può permettere di rischiare un'altra partita perché è un attimo ti distrai un secondo e lei tra che poi pensavo visto che siamo a Memphis ce l'ho date Idy noi vi diamo Rudy Gobert Idy sotto a me guarda che verrebbe bene Idy è arto forte 33-25 ci riprova ma è niente 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 questa cosa e non gli deve toccare il braccio lui non la vuole capire pare l'allegro chirurgo deve andare lì con le pinze fa pi 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 e questa partita è riaperta è inutile stacchiacchierare 4 punti 33-29 Noiz è presa troppo alla leggera te lo dico io Luka Doncic contro Murray il blocco di Rudy Gobert attacca Luka Doncic per redimersi sotto per Gobert dovresti tirare giù ogni bene e far sartare le viti come Crosario ma va bene uguale e bisogna ricominciare a mordere difensivamente perché siamo stati un po' all'acqua di Rosen in secondo quarto Adebaio contro Gobert si torna da Giddi nell'angolo Mobley su di Luisa Yannis backdoor di Murray a vuoto l'intervento ma è il rimbarzo di Luka Doncic che poi spinge la mezza transizione più 6 e palla in mano ancora Doncic lavora 2 che poi va via dai blocchi esce George difficile con l'home addosso tutto scoordinato Paul George più 9 basta un niente si riallunga però poi ci sa dei cali di concentrazione altri 2 no rimbarzo di cattivo piano 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 non forzare non forzare di spalla di pancia Luka Doncic arrivata a 12 con questo nuovo assetto se si fosse giocato così per tutto l'anno secondo me Luka Doncic per quella cosa dell'MVP Ghidi intanto contro il cattivo nell'angolo Mobley su di lui c'è Yannis prova a attaccare ci mette la mano Yannis che non sta facendo niente in attacco ma in difesa e rimbarzo per ora è tanta roba il cattivo contro Ghidi c'è Yannis che prende posizione spalla canestro poi riceve mismatch contro Murray un paio di aiuti si butta ma perché ma se ti raddoppiano c'era Luka Doncic nell'angolo da solo 40-29 occhio occhio cattivo io non lo so se gliela darei perché guarda che non sa di che fassene la riapertura il telefono Yannis Mobley è strano perché Jack Galanda da lì faceva sempre canestro com'è possibile che Yannis ha detto Combo non sia Jack Galanda 3 ancora guarda e Murray viene bene in queste circostanze siamo a 16 io non mi scingarellerei ho già mal Murray in una partita da dentro fuori blocco di cattivo Doncic arresto tiro Long 2 sbagliato Mobley questa partita non è finita siamo alla metà del terzo periodo Murray ha appena segnato prova ad andare in fondo so in 2 su di lui poi Adebaio ancora Murray contro Luka Doncic ultimi 10 secondi dell'azione Adebaio 1 contro 1 Middleton su di lui c'è Gobè mancano 5 secondi che ancora Middleton 3 punti importanti oh non si perde l'ha detto Simone Simone dice che non è difficile poi perde le partite anche avanti di 15 questo è il ballo di Simone Doncic che attacca contro Jamal Murray nell'angolo per Bain ancora Doncic ultimi 6 secondi sono tutti larghi 4 cantoni per lasciare spazio a Luka Magic 2 tiri liberi forza c'ha un vantaggio fisico c'ha un vantaggio fisico e perché a loro gli riescano questi tirini con una mano e pagano lo zampognaro a 2 con il granchio a 2 con il granchio Luka Magic granchio ci sarebbe il cattivo trovato Gobè il cattivo ultimi 3 secondi attacca va in fondo si spazia col fisico con la spalla il cattivo io non voglio fare previsioni non voglio però guarda che il cattivo il cattivo se lo meriterebbe Ghidi in fondo la stoppata di Jannis il recupero di Luka Magic che gestisce la mezza transizione un minuto alla fine del terzo quarto avanti di 7 dai blocchi lo stesso cattivo ancora per Luka Doncic ne porta uno il granchio attacca Doncic prova a arrivare fino in fondo si arresta difficile nell'anno niente 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 non ti fanno neanche parlare bisogna la cambi questa cosa Murray dai blocchi rispo partitona di Murray nooo se accesi Gatorade se accesi Gatorade a Doncic ci pensa il cattivo che però sbaglia se accesi Gatorade a Doncic e i piedi a Murray questa situazione non mette niente bene ultimi 30 secondi Ghidi dai blocchi il ritardo Doncic sotto Middleton vantaggio fisico contro il cattivo 2 di Middleton ancora meno 5 Indiana Pacers con l'orgoglio di non mollare fino alla fine piano piano ma perché così difficile così forzato che si poteva arrivare fino in fondo one shot e invece gli hai regalato anche questi tre punti di Murray bada che lavoro e sai si perde se bello è perso 44-46 Luka Magic con i Gatorade da tutto campo Luka Magic con i Gatorade a tutto campo ma forse è un segnale forse è un segnale è un segnale del signore attenzione ma chi è Marcello Nicola quello dopo aver giocato un secondo quarto così e così e un terzo quarto in vero e fondo il segnale del signore Luka Magic a tutto campo ci riprova anche Olmgren tre punti dell'ispettore 6-0 di parziale più 8 è entrato anche Hon e senza Baug e tira e tira e tutta la sera e tira certo dopo che erano tornati a meno 2 si è avuto una reazione d'orgoglio back to back back to back il granchio è il momento più difficile della partita della stagione 3-3 da 3 come ti cambiano le partite a volte dagli episodi guarda la fiducia che ci ha dato quella tripla a tutto campo di Doncic Ubre prova a rispondere dall'altra parte e risponde con la tripla Kelly Ubre Junior meno 8 non hai fatto niente eh Giannis in tutta la sera ci riprova il granchio il granchio nel momento più importante ma due tripla in fila come rimas a Hohenas in finale il granchio eh queste due triple queste due triple di granchio nel momento più importante chissà se gli varranno un titolo attenzione con e senza baughe da 3 punti chissà se la gente se le ricorderà di queste due triple in gara 4 quando ci sarà da votare i quasi MVP 58-47 ultimi 4 minuti forse della partita Middleton con l'errore Giannis tornato Rudy Gobert quintetto Miros dice ora con il granchio su di lui c'è Gabe Vincent attacca prova alzarla contro tempo il pallone arriva Giannis in qualche modo forse i primi due il granchio con le hele sulla partita e tira e tira Rudy Gobert con la stoppata il recupero ancora di Giannis per il granchio che ora è scatenato e sta predicando pallacanestro il blocco di Giannis poi va via velo per Paul George tre punti importante Mobley ora Rudy Gobert codesto da fermo lo dovresti tenere vediamo Adebaio uno contro uno contro Rudy Gobert ferma il palleggio non sa più che fare trovato Middleton contro Paul George sotto niente niente gli fa anche fallo gli fa anche fallo te non lo devi veramente mettere alla prova mai mai lo devi mettere alla prova la prova del cuoco dovrebbe fare lui con la Klerici ultimi tre minuti avanti comunque di dieci Luca Doncic sul blocco di Gobert gli restituisce il pallone è sotto ma è stato stoppato a me viene da piangere posso piangere guarda Middleton tre punti in transizione piano ragazzi piano noi non dobbiamo accelerare non siamo chiamati noi a accelerare le soluzioni Doncic ancora scambia con George e riceve blocco di cattivo Luca Magic long two buttandosi da una parte leggermente da San Giovanni in Persiceto rimbarzo di Mobley il tempo però sta scorrendo 60 a 50 Murray Giddy Middleton su di lui c'è Paul George arriva anche Mobley che prende spara da tre punti Mobley rimbarzo di Paul George se mi è tutto altri 24 secondi piano 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 gli sei venuto grazie Carmelo grazie io non c'ho l'audio non so se la gente sta cantando MVP per oggi potrebbero fare un pensiero quintetti titolari in campo da una parte e dall'altra per l'ultima volata Murray stoppato ancora da Yannis che con questa cosa delle stoppate mentre Doncic spreca un fallo si potrebbe guadagnare un titolo importante sta a vedere comunque vado a finire partita da campionissimo di Jamal Murray in quella che potrebbe essere l'ultima della stagione di Indiana Paul George il blocco di Rudy Gobert attacca Paul George trovato Luca Donci ci si stacca il raddoppio ci sarebbe il cattivo non lo vedano gli arriva in ritardo i palloni cattivo il cattivo di Batman quarta tripla ci si è messo eh ci si è messo tanto a capire come fallo giocare e alla fine non lo so neanche come si è fatto a indovinare in modo giusto però si è indovinato parata di Rudy Gobert niente è saltato proprio a farfalle e poi l'ha stoppato però sul recupero Giannis ora ultimo minuto di partita e forze della stagione Luca Doncic blocco Gobert Long 2 Luca Mejic con l'errore non la si vuole chiudere in nessuna maniera però ora mancano 56 secondi siamo comunque avanti di 13 Murray blocco di Mobley attacca ancora Murray sul fondo la virata contro Giannis finta contro finta chiude il palleggio Adebaio ultimi secondi Ghiddi attacca contro il cattivo poi Murray Doncic alla fine con l'intercetto difensivo poi per Paul George prova ad andare fino in fondo spazza tutti via e allora è praticamente ufficiale la mano di Dios 67 52 non so se sarà il risultato finale ma siamo vicini a vincere il primo quasi gaming con i playoff semifinale e finale ci si è fatta tutta la run di playoff perché non siamo riusciti a qualificarsi subito 2 di Adebaio 67 54 si attaccherà con la cornucopia accesa di Luka Magic si attaccherà o ci si ferma qui ci si accontenta del 4 a 0 in finale sweepati gli Indiana Pacers la quinta edizione la portiamo direttamente a Memphis al FedEx Forum campioni del quasi gaming 4 a 0 in finale 67 54 gara 4 finita la voce e allora si chiude si chiude una finale che non ha dato grandissime soddisfazioni dal punto di vista dello spettacolo ma su questo vedrete che il prossimo anno sarà tutto diverso questa gara 4 si è dominata noi vada lì tutto giallo il miglior realizzatore della partita quota 23 punti è un sorprendente Jamal Murray che ci ha provato fino alla fine 21 di Luka Doncic 10 rimbalzi di Giannis 9 di Mobley dall'altra parte negli assist a quota 4 Murray Doncic e il granchio sorprendentemente nei recuperi Doncic Aiei e Van Damme nelle stoppate 2 di Giannis e di Rudy Gobet e allora finisce qui 4 a 1 la semifinale contro Portland 4 a 0 la finale con Indiana siamo primi siamo primi si è vinto i quasi gaming al secondo posto gli Indiana Blazers al terzo i Portland Trail Blazers e chiudono quarti fuori dai playoff i Phoenix Suns ci sono delle grandi novità anche per quel che riguarda le classifiche individuali il miglior realizzatore del torneo è il cattivo di Batman a quota 12 Isaiah Frankenstein nei rimbarsi e nelle stoppate Luca Magic negli assist a quota 8 da solo e Aiei rimane secondo contro Van Damme che vince la classifica dei recuperi ma soprattutto Giannis Adetokumbo con 19 riconoscimenti contro i 18 di cattivo e i 17 dell'ispettore Gadget diventa l'MVP della quinta edizione di quasi gaming certo è che se si fosse giocato così per più tempo Luca Doncic è arrivato in un Amen a quota 11 e avrebbe potuto fare davvero paura questi signori qui questi sei giocatori qui che poi sono cinque perché due è lo stesso entrano di diritto nella Hall of Fame del quasi gaming Giannis l'MVP dopo l'anno scorso lo fu il lato bianco Hassan Whiteside Bain il miglior realizzatore dopo due anni di Drammond Artenstein dopo due anni di Drammond che ha dominato le ultime due stagioni nei rimbarsi Luca Magic negli assist dopo Johnny e quasi magia Van Damme dopo ancora Andre Drammond e Frankenstein dopo Whiteside quest'anno è stato l'anno del record di punti su singola partita 37 di cattivo di Batman quando ancora ce l'aveva la GPU manca un riquadro per completare il discorso il quasi MVP Mefiondu Bobanone Tuo Salamanca il lato bianco e quest'anno io ho intenzione di fare dei sondaggi li avrete nei prossimi giorni nella sezione community qui del canale su YouTube credo di metterci papabili per i quasi MVP tutti i bronze più il cattivo di Batman così almeno potete scegliere in totale assoluta libertà tra questi sei un riconoscimento molto importante molto importante perché è un po' no? il giocatore più rappresentativo della stagione e quindi questo questa è stata la quinta edizione del quasi gaming la prima ho i playoff grandi novità ci attendono per il prossimo anno che in realtà è molto più vicino di quanto si possa pensare perché alla fine della fiera a settembre dovrebbe uscire il gioco nuovo e siamo a luglio per cui c'è neanche due mesi nel frattempo sul canale ci sarà per la sezione gaming una nuova rubrica che potrebbe diventare anche un appuntamento fisso annuale se vi dovesse piacere ma ne riparleremo vedrete di che cosa si tratterà a partire da settimana prossima nel frattempo col quasi gaming è finita qui con la serie ancora una volta più vista del canale ma soprattutto più senza senso che il web sia forse mai riuscito a partorire grazie a tutti